Il POMetro ci offre delle possibilità molto interessanti legate allo sviluppo di progetti innovativi su diverse aree tematiche. Per quanto riguarda l'asse 1, l'asse digitale, è previsto che lo sforzo dell'amministrazione si concentri in tre driver tecnologici fondamentali. Il primo riguarda l'evoluzione in cloud delle infrastrutture tecnologiche e la realizzazione di servizi smart per rendere la città più semplice e più fruibile dal punto di vista digitale. Il secondo driver tecnologico riguarda la digitalizzazione dei processi in ambito amministrativo e quindi la re-ingegnerizzazione di tutte le attività dell'amministrazione tese a servizi accessibili. Il terzo driver tecnologico riguarda invece l'incontro tra domanda e offerta per quanto riguarda l'agenzia della casa, quindi per i portatori di interesse e quindi i più bisognosi un database centralizzato che consente di incrociare domande e offerta. Quali sono i vantaggi diretti per i cittadini? Sicuramente l'aspetto della trasformazione digitale consentirà ai cittadini un nuovo modo di approcciare e di avere un'interazione con la pubblica amministrazione in maniera molto più semplice e in maniera veloce e consentirà quindi di interagire con la pubblica amministrazione in modalità sicuramente partecipata. Trasparenza, comunicazione, ascolto, confronto rappresentano necessariamente valori che mettiamo in prima linea.